Consente anche di spiegare rispetto a quello che è uscito, qual era il contenuto del lavoro. Il gruppo di lavoro ha sottolineato l'attenzione dei sindaci, che sono i soci, sul fatto che rapidamente dobbiamo ridare ossigeno a questa società. La proposta semplificata non era una proposta compiuta, cioè non era una delibera, voglio essere molto chiaro, non era una delibera, era solo dire, e io dico soprattutto ai sindaci, perché abbiamo detto, quasi tutti abbiamo detto che la responsabilità di risolvere il problema è in capo ai sindaci. La proposta era quella di dire proprio ai sindaci, dobbiamo riprenderci mano alla società e risanarla. Quindi sono perfettamente d'accordo per rispondere a ProE, nel senso che l'articolazione della proposta sarà un passo successivo, una volta che i sindaci prenderanno atto di voler salvare la società e con quali formule, che possono essere quelle del comune, del consorzio azienda, cioè dei campi sovralettrici, di qualsiasi altra formula. Così abbiamo chiarito anche questo aspetto, diciamo, tecnico, perché poi tutti si sono concentrati in quelle due frasi lì, che probabilmente anche a livello di comunicazione non sono state comunicate proprio bene, quindi ce ne facciamo carico di tutta questa poca o scarsa comunicazione. Prego, Constantini.